Una guida a colore in quello che definisce il magico mondo vegano, così Fabiola Di Sotto ha preso per mano Barletta e l'ha condotta giovedì 4 luglio nel viaggio all'interno della cucina vegetale da paura dal titolo del suo primo libro. Presentato in Piazza Marina nel corso della rassegna storie, libri e cucina è un vero e proprio manuale con 110 ricette stilato dalla mamma veg tra le più amate del web, con oltre 630.000 follower su Instagram. Un libro completo e golosissimo all'insegna del 100% vegetale, lo definisce l'autrice e con tante opzioni senza glutine per navigare non solo tra colazione, pranzo e cena ma anche per le occasioni speciali. La cucina è vita per Fabiola Di Sotto, sposata con uno chef vegano, la sua famiglia possedeva una tavola calda riconvertita da qualche anno in ristorante vegano a Roma nel quartiere Termini. Le sue ricette, ha raccontato dal palco di Barletta, sono destinate a chiunque abbia intenzione di riscoprire i piatti della tradizione in chiave vegetale, ma soprattutto di sperimentare, conoscere e godere insieme della buona cucina. Così l'appuntamento in Piazza Marina è stato occasione utile per scoprire che con i legumi si può fare di tutto, dalla crema al cioccolato alle meringhe, dalle polpette alla focaccia, e che con soli ingredienti veg è possibile preparare una cena raffinata, ma anche piatti veloci e completi per tutta la famiglia, senza rinunciare alla bontà della tradizione. Quella che scorre nel sangue di Fabiola, che ha radici in Puglia, con nonna di Andria, a dialogare con l'autrice in un contraddittorio appassionante, il giornalista e presidente dell'Associazione Giornalisti Agroalimentari Puglia, Michele Peragine, il tutto trasmesso in diretta social su Telesveva. Un format che si ripeterà anche per il quinto e penultimo appuntamento della rassegna, in programma lunedì 8 luglio alle 20.45 con il Canto della Fortuna, scritto da Chiara Bianchi.